Tutti e buon inizio di settimana, dai dai dai, acceleriamo con le iscrizioni, obiettivo 77.000 entro Natale, per cui se già non l'avete fatto, lasciate la vostra iscrizione al mio canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like al termine di questo contenuto, come sempre, grazie anticipatamente. Allora, sembra che al momento qualche infortunio qua e là sia aiutando la Juventus a scremare la lista dei potenziali innesti per quanto riguarda la sempre più vicina sessione di gennaio. Perché, come raccontato nelle puntate precedenti, il KO di Rodrigo Bentancur con il Tottenham dovrebbe tornare in primavera, ha comunque messo gli spurs nelle condizioni di non privarsi più di Hoiberg, che tra l'altro ieri contro il Manchester City è entrato in avvio di ripresa. È un giocatore che non parte tendenzialmente titolare in questa stagione, ma trova ampio minutaggio anche complici poi i KO dei compagni di reparto. Quindi Hoiberg già, se fosse stato bene Bentancur, comunque gli spurs lo avrebbero voluto ottenere oppure cedere ma a titolo definitivo. Cioè a fronte di un'offerta congrua, pur sempre con la base e la stima del Tottenham nei confronti di questo ragazzo, che mi dicono sia molto serio. Gente che ha lavorato con lui nella parentesi targata Antonio Conte. E quindi, ora appare molto complicato che questo giocatore possa lasciare il Tottenham e bisogna fare anche i conti con l'infortunio patito nell'ultima partita purtroppo da Fabian Ruiz, che, come comunicato dal Paris Saint Germain, ha subito un'allustrazione alla spalla destra, fortunatamente senza frattura. Ora, non ho mai pensato che concretamente la Juve potesse andare su questo calciatore. Sì, ok, c'è stato un incontro con il suo entourage qualche settimana fa a Torino, ma il duo Cristiano Giunto e Giovanni Manna stanno incontrando tanti agenti, tanti intermediari, stanno perlustrando, setacciando più opportunità. Però, se guardo attualmente il centrocampo della Juve, sì, Fabian Ruiz ha giocato con il Napoli, un giocatore d'esperienza, un giocatore che conosce quindi molto bene la Serie A, ma non mi sembra quel tassello che manchi per far fare il salto di qualità al reparto. Poi è ovvio, dobbiamo anche chiarirci, nel senso, a gennaio i big non si possono acquistare. E credo che in Italia i big non li vedremo ancora per parecchi anni, perché se arriva gente di cartello, o sono scontenti di lusso, o calciatori che hanno già dato il meglio e arrivano in Serie A per effettuare gli ultimi anni di carriera, o per cercare di rilanciarsi, però noi non possiamo competere con i grandi nomi che infatti vengono associati ai club che vanno per la maggiore in Inghilterra, in Spagna e, ovviamente, ha preso banco anche il mercato saudita, perché credo che, soprattutto in estate, ci sia l'intenzione di fare ulteriormente la voce grossa. Quindi siamo davvero con gli occhi aperti. Noi viaggiamo all'insegna della sostenibilità, la parola più cara citata da quando è arrivato da parole di Cristiano Giuntoli, ma in generale di tutto lo Stato Maggiore Juventino. Detto questo, secondo me, pur dovendo per forza di cose sposare un concetto di sostenibilità, con te alla mano si possono fare cose interessanti. Io continuo a sostenere che il centrocampista a gennaio non debba essere un riempitivo. Ok le occasioni, ma non acquisire tanto per fare numero, perché non avrebbe senso. Il giocatore che deve prendere Juventus a gennaio dovrà tornare utile, anche se al termine dell'annata la Juve dovesse cambiare guida tecnica. Quindi, ovviamente, abbracciando i concetti calcistici di Max Allegri, ma anche di eventuali allenatori se la Juve o se Allegri comunque dovessero decidere di separarsi al termine di questa annata. La Juve a centrocampo ha bisogno davvero, al di là delle questioni Fagioli e Pogba, ma ha bisogno di alzare il livello qualitativo, quindi provare a fare più gol, più assist, ma in generale maggiori abilità in fase di costruzione, in termini di manovra. Noi ora abbiamo parlato, perché alcuni nomi sono veri, altri magari no, ma abbiamo citato tantissimi calciatori già alla Juve per quanto riguarda il mercato di gennaio, che mettono nel mirino ovviamente il loro ruolo al centrocampo. Fabio Ruiz, Hoiberg, Samaric, De Paul, Phillips, qualcuno ha parlato anche di Ferguson, del Bologna, tutti giocatori completamente differenti tra loro. Io penso che alla base del discorso ci debba essere una corrente di pensiero, ovvero prendere un calciatore funzionale in termini di reti e assist, perché questo centrocampo su queste basi, per queste basi intendo l'attuale stagione, è un centrocampo che ha pochi gol. È chiaro che proveniamo dalla grandissima prova di Adrien Rabiot, e in termini proprio di realizzazione aveva overperformato nella passata stagione con 11 gol, considerando anche gli impegni delle coppe. In questa annata siamo a quota 2 per Rabiot, gol alla prima Udine e gol più assist contro il Monza, ma è normale che sia così, perché ci deve essere una distribuzione più omogenea, anche a livello di compagni, ma siamo fermi al gol di Miretti con la Fiorentina, al gol di Locatelli contro il Milan con la deviazione decisiva di Krunic, siamo al gol di Cambiaso con il Verona, siamo a quota 0 per McKennie, che però sta facendo delle grandissime partite all'insegna della generosità, e quindi Schopo, per come West, sia tornato dopo l'effimera parentesi con il Leeds. Ma servono più gol, servono più gol dei centrocampisti, e in generale più gol quando si crea tanto, essere più cinici, ma questo è un altro tipo di discorso che abbiamo già fatto e rifatto, e che purtroppo, temo, ci accompagnerà fino al termine della stagione. Quindi, vediamo se questo infortunio di Fabio Ruiz porta definitivamente a depennare il suo nome, sebbene da quello che mi risulta non sia mai stato caldissimo, caldo, un conto è proporre, un conto è andare a cercare. Però, credo che ora sia giusto, giunti al 4 di dicembre, iniziare a scaldare i motori se parliamo di mercato, perché farlo ottobre e novembre ha un tipo di senso, farlo ora e quel calciatore non si può sbagliare. Non si può sbagliare, e lo ripeto per la terza volta, non si può sbagliare, perché io credo che l'obiettivo vero di questa stagione sia non avere rimpianti. Cioè, con le possibilità attuali, con l'organico attuale, con quello che puoi fare a livello di sforzi a gennaio, avere una macchina che ti consenta di poter performare in determinata maniera ben conoscendo i propri limiti. Però, a proposito dei limiti, è evidente che ci siano, siano anche molteplici a livello strutturale. Quindi non è che, e qua sono d'accordo con l'Allegri quando dice le squadre si fanno in estate, a gennaio non puoi fare rivoluzioni, ma si possono centrare delle possibilità, appunto, delle opportunità. E il fatto che giunto Le Manna, da agosto, da quando è iniziato il campionato, abbiano potuto osservare quotidianamente progressi e mancanze di questa rosa, mi lascia ben pensare che a gennaio, se verrà fatto qualcosa, per me verrà fatto, verrà preso, acquistato, inserito un centrocampista, questo innesto eventualmente avrà il suo perché. Non riempitivi. Non si può sbagliare quel calciatore. E come vi ho detto, davvero, il mio auspicio è che possa essere un nome spendibile anche per il futuro. C'è uno che prendi ora, che possa coesistere con l'idea di Allegri, ma che al tempo stesso possa essere anche un asset, un valore aggiunto, un calciatore importante per le puntate che verranno, in quanto credo che da questo punto di vista non si scappi. La società deve fare la società. Poi può seguire le indicazioni dell'allenatore, ma se ritiene che Timothy Weah abbia il potenziale per poter essere la Juve, per poter diventare un calciatore importante, Timothy Weah va preso. E infatti la Juventus, nell'ultima sessione, ha preso Timothy Weah. Cioè, riteneva che si dovesse, ovviamente, necessariamente sostituire Juan Quadrado, ed è andata sulle caratteristiche di un calciatore, che onestamente non credo che sia un nome fatto, spoilerato, suggerito da Max Allegri. Quindi la società ha già dimostrato di saper fare la società. E a gennaio quell'innesso per me va fatto, deve essere fatto. Proprio per la questione numerica, perché può capitare quello che è successo, purtroppo, con il Cagliari a Locatelli, che quindi l'ha debilitato per la partita con l'Inter, quindi non ce l'ha fatta sostanzialmente giocare, l'eccezione fatta per i minuti di recupero con il Monza. Basta una febbre, basta una semplice influenza, e lì non si può scherzare. A maggior ragione se l'asticella si sta alzando, e quindi il NS è responsabilità.